benvenuti ragazzi in questo nuovo video oggi parliamo un po di juve ieri sera si conclusa juve bologna la prima partita casalinga per la juve e i primi dubbi le cose belle vista aurine cancellatele perché contro il bologna non ci sono state io penso che la juve deve deve essere più continua poi ci sono giocatori che fanno proprio cagare tipo alexandro a cagare in difesa non è inutile cioè io farei giocare uizen se proprio devo giocare qualcuno faccio giocare uizen oppure sposto danilo a sinistra e metto gatti a destra vabbè comunque oppure non lo so pure gioco in dieci se volete quindi alexandro per me veramente scarso non ha più l'età per giocare in serie a oppure cioè oppure non ha più l'età per giocare in un big club magari in serie a una squadra medio basta farebbe anche bene però il peggiore per me rimane sempre lui locatelli e da parecchi video e parecchi da un paio di video fa l'ho detto locatelli è forte ma la juve non si è mai espresso per bene e non solo quale sia il motivo insomma non è neanche problema non è neanche colpa di allegri nel caso di locatelli insomma è locatelli non sente il peso della maglia ecco per me locatelli io su questo su locatelli su me non è colpa di allegri è però alle cazzo locatelli sei quello che c'è porca troia se quello che fa partire il gioco se quello che organizza il gioco le azioni partono da te e non puoi fare così cagare quindi per me non so io la prossima partita io infatti ho avuto sempre alcuni dubbi nel prendere rovella o barrenicea forse uno dei due l'avrei tenuto perché secondo me sia rovella che barrenicea sono meglio di locatelli barrenicea ha dato al frosinone per fare l'esperienza infatti ho visto non ho visto la partita del frosinone però ho visto che era titolare e quindi io sono contento magari tornerà dal prestito sicuramente più forte di locatelli già adesso è più forte di locatelli appena rientra il minutaggio in serie a bla 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 appena rientra sarà più forte di locatelli 100 100 se locatelli continua così cioè pure io sono più forte di locatelli quindi locatelli non abbiamo nessun sostituto di locatelli comunque forse nicolussi caviglia forse diciamo che è quello più adatto tra quelli che abbiamo e quello più adatto io farei giocare se proprio voglio fare qualcuno fare giocare nicolussi caviglia perché locatelli non merita la titolarità nella juve infatti io avrei tenuto rovella e avrei mandato via proprio se proprio mandare via qualcuno locatelli so che ai bilanci quel che sono i bilanci non presti bene vabbè mandiamo rovella facciamo quello la petina da sacrificare tra virgolette anche se secondo me in teoria tutti pensavano partisse un big per fortuna sono rimasti quindi niente poi anche nella prima giornata abbiamo visto schemi idee gente che ha voglia di attaccare qui un cazzo c'era cambiaso che si accentrava palla chiesa si allarga cambiaso si accentra non ho mai visto non ho mai visto sta roba qui passaggi di prima passaggi di prima abbiamo visto ecco oggi cioè oggi ieri non abbiamo mai visto passaggi di prima non è possibile zero passaggi di prima non ho visto un cazzo UEA fa ancora un po' fatica però diciamo che lui ha un alibi che è appena arrivato si deve un po' ancora adattare però ancora ancora lui fa un po' fatica cambiaso forse abbiamo elogiato un po' troppo e poi vlaovic invece ha fatto bene chiesa non si è mai allargato nel primo tempo soprattutto non si è mai allargato cioè cambiaso prende palla da chiesa cambiaso si accentra e chiesa si allarga sinistra mai fatto sta roba qui infatti chiesa non l'abbiamo mai visto perché chiesa non sa stare dietro le punte non sa stare dietro blavic quindi vi allegri per la parte di empoli prossime con l'empoli dati una svegliata cazzo messi male è nati una svegliata pensa con le cose positive di urine e mettere in testa i giocatori per la partita contro l'empoli perché io io non mi ero neanche illusato molti di senso era juve da scudetto bla 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 io ero contento per le idee perché c'è un delle idee cazzo però non mi ero illuso ora io vince lo scudetto no io sono sempre stato caldo detto se me champions secondo me ci arriviamo lo stesso però di e per la lotta a scudetto forse forse una giornata saremo una lotta scudetto forse nelle prime tutti per un giorno saremo nella lotta a scudetto forse le favoriti sono penso il milan che spinge veramente forte e il napoli e vediamo cosa fa stasera l'inter però penso siano queste tre le favorite per la lotta a scudetto e parliamo un po di cambi entrato pogba che ha giocato bene ma da pogba io mi aspetto sempre di più però è la prima partita dopo un infortunio vabbè dai con calma bla con calma e poi dai con calma e riprenderà spero spero che ritornerà il pogba del 2015 14 quegli anni lì pogba lì sarebbe il centrocampista più forte della serie a se fosse quel pogba lì a un legione da viste più forti del mondo e poi sono entrati tipo che entrato ildis healing vabbè non mi ricordo che entrato ildis ha visto che ha preso un giallo non ho capito per quale motivo nessuno ha detto niente il cartello giallo ildis vabbè non ho ben capito perché ha preso un giallo poi healing ha fatto assist per blavic di testa quindi per me blavic è stato il migliore e poi chi è entrato poi costice ancora zero minuti da costice il nostro miglior assist mente l'anno scorso forse con chiesa e infatti come ho detto nei precedenti video chiesa e costici insieme secondo me un po si ostacolano la vicenda perché sono entrambi i giocatori che li devi lasciare la fascia libera e quindi sia chiesa e cose cerca di giocare nella fascia sinistra quindi diciamo un po si calpessano i piedi o forse è un indizio di mercato chiesa cioè costice va via è la stessa cosa che per ken ha fatto entrare ildis a posto di ken che poteva entrare ken a posto di ildis che poteva entrare ken invece che ildis forse anche questo è un indizio di mercato non lo sappiamo io spero che allegri e il suo staff rimetto un vostro idee cose positive di urine con metterle in testa per far sconfiggere tempo di cazzo e poi niente niente d'altro da dire comunque il bologna di tiago molto giocato veramente bene soprattutto mi sono piaciuti molto doglie il numero 11 e zizze zizze il numero 9 ha giocato veramente bene se mi aspettavo un bologna di merda senza arnaldovic però invece bologna ha giocato bene ha giocato bene juve e la juve dell'anno scorso comunque e la juve dell'anno scorso un cazzo zero idee zero passaggi di prima a chiesa gioca nel ruolo più sbagliato possibile speriamo bene dai è la seconda magari lei che aveva delle idee strane io spero che a lei che abbia le idee chiare dopo sta partita mettete posto la testa e dai delle idee chiara ai giocatori che sono forti sono forti non dico che sono da scuretto però sono forti cazzo in comunque in questi giorni volevo parlare anche di un'altra cosa che si è parlato di prestito per caio giorgia e sulle entrambi al flosinone io su lei e caio giorgia rimanere in prestito perché sono giovani hanno bisogno di minuti e sono soprattutto forti soprattutto sulle sulle io sono affezionato a lui quindi secondo me sarebbe un buon posto per rimandarli entrambi e c'è c'è a barri nei ciali sono già tre giocatori se vanno questi due sono già altri giocatori della juve non so se saranno titolari vediamo un po le gerarchie il poste che sono convincere di francesco io spero che saranno titolari però mi darà l'allenatore comunque vorreste vede tutto lasciate in commenti cosa ne pensate voi di juve bologna ciao